C'erano lavoretti con le pentole, le maglie e i dolbindani, e noi tutti a prendere le pentole vecchie, a portare i piedi d'olio e le maglie e i dolbindani. Aggiustavano gli oggetti, le cose. Poi in sera musica a me, qualsiasi musica a me, proprio qualsiasi, no, mi sembra bastire il rap, ma tutta l'altra tipa di musica va bene, la chitarra, il piano solo, il, il, come si chiama, quello, il stacco. Aggiustavano il, 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 il...